Una lotta all'ultimo voto, un'attesa estenuante. Tropea si conferma il comune in provincia di Vibo Valencia più battagliero. Era successo così anche alle ultime consultazioni. Il combattimento preferenza su preferenza si è riproposto anche in quest'ultima tornata. A spuntarla tra le tre formazioni in campo e Giuseppe Rodolico, la guida della lista Tropea Futura, ha superato Giovanni Macri per una manciata di voti. Una sfida che ha caratterizzato l'intero pomeriggio tropeano. Staccato da subito invece l'altro candidato, Giuseppe Maria Romano. L'attesa snervante si è spezzata intorno alle 20, quando nell'ultima sezione mancavano una cinquantina di schede da scrutinare. Il vantaggio accumulato nelle altre sezioni ha permesso a Rodolico di festeggiare prima della chiusura definitiva dei seggi. L'abbiamo sudata fino all'ultima, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ringrazio tutti i miei concittadini, in particolare quelli che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale. Ma io sarò il sindaco di tutti, sarò l'amico di tutti. Ma in vista della stagione estiva, quali le prime azioni da intraprendere per presentare nel migliore dei modi la perla del tirreno a turisti? E non solo, Rodolico non ha dubbi. Ci sono grossi problemi sul tavolo, ma la prima penso che sia la potabilità dell'acqua. Dobbiamo intervenire perché abbiamo delle zone dove l'acqua non è potabile, quindi questo è un problema prioritario. Dovremmo intervenire sulla raccolta differenziata che non è andata a regime e noi ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, quindi dobbiamo presentarci bene.